Allora oggi breve video parliamo di stoloni e rizomi visto che me l'avete chiesto in tanti vediamo le differenze in questo caso parliamo di piante stolonifere quindi qua ho una rizoma e uno stolone di paspalum vaginatum che è un'essenza da tappet erboso una macroterma come ad esempio la gramigna, lo stenotafrum, la zoisia eccetera eccetera Allora quindi che cos'è il rizoma? Il rizoma non è altro che una radice sotterranea dove stolonifera quindi cresce in modo orizzontale dove appunto avviene poi l'immagazzinamento di tutte le sostanze nutritive da qua si generano poi gli stoloni che corrono sul terreno sempre in modo orizzontale gli stoloni che vedete poi hanno appunto le foglie che vanno a comporre poi il nostro tappeto erboso si somigliano tanto solo che uno sta sopra il terreno l'altro sta sotto il terreno qua ha una parte appunto di uscita vedete che ci sono delle foglioline dove poi qua si genererà il nostro stolone che appunto fa la fotosintesi quindi grazie alle foglie avviene la fotosintesi e immagazzina poi e lavora radicalmente tramite il rizoma rizoma che ha degli internodi come ce l'ha anche lo stolone ogni internodo ha una radice che appunto si ancora al terreno e dà poi vita a tutto questo sistema complesso che vedete qua come vedete il rizoma è molto chiaro perché non prende luce sta sotto il terreno potremmo anche dire che il rizoma uscendo fuori potrebbe anche cambiare aspetto e diventare uno stolone ma non entriamo in merito poi a questo discorso qua che diventerebbe un po' troppo complesso perché quando vi dico che se andiamo a strappare la gramigna quindi andiamo a tirare questa parte verde che vediamo quindi la rompiamo siamo convinti di averla tolta dal terreno in realtà sotto c'è lui il rizoma il rizoma che darà poi rimarrà vivo perché ha le sue radici che affondano nel terreno darà vita poi a nuovi stoloni che continueranno poi a uscire dal terreno e crescere quindi l'unico rimedio efficace è il diserbante che va appunto a seccare la parte apicale poi lo trasla dentro le radici, i rizomi quindi e muore tutta la pianta in sé fino alle parti sotterranee anche se è molto difficile fare questo quando si fa il verticat ad esempio si spezzano questi stoloni quindi diamo origine poi a nuove piantine, nuovi stoloni perché ogni internodo poi genera un altro stolone che si allarga cresce orizzontalmente nel terreno e va a chiudere completamente tutto quello spazio che vediamo quindi stolone superficiale, la parte aerea diciamo che vediamo e poi il rizoma sotterraneo con le radici spero di essere stato chiaro e vi aspetto con un prossimo video ciao ciao